E salve a tutti ragazzi E salve a tutti ragazzi Sono da 67 E sono qui che sta Buongiorno Questo qui è un saluto Alla Mike Shosha Questo è il D'altro Mike Shosha c'è una fianzata che è figa Questo qui sarà il primo video Poi lui si guarda il video no? Serio? Su Shadows Buongiorno Come state tutto a posto no? Debe fra Daz Tutto bene? Soprattutto tu Daz L'ho provata due volte Eh io è la terza questa Guarda Daz Guarda la faccia A posta Salve Daz è la sua felicità nel giocare La faccia del personaggio Questo personaggio fa la tua stessa La tua espressione dal vivo Oh comunque dai Ho stabilizzato il tutto Direi che funziona bene così No non ci arrivo Ma io inizio a prendere i pezzi Con calma Questa partita sarà Ma ragazzi io non so una sega Fate voi Ah giusto c'è anche Debe che non sa quasi niente Daz anche non sa quasi niente Quindi Beh sarà una partita un po' No io non so niente e basta Come non passiamo il round? No direi di passarlo al primo round Eh no perchè ci sono i segreti da fare prima Ma quali? Ma no Ma Non lo so non so che ci sono i segreti Ok Se mi lasciate uccidere qualcuno sapete mi Aia Mi 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 Oh guardate che ping vi sto dando Ma guarda io Ma guarda io che Che connessione brutale Ma cosa? Debe che Cioè Daz io e te siamo più vicini Spiegami come mai Debe Pinga meno di te Ma io te Boh non lo so Poi tu pinghi Boh vabbè non fa niente A posto così Vabbè dai 70 va bene 70-80 No è accettabilissimo Perché zombie se tu segui il meridiano Che divide il meridiano Al posto dei soliti 150 Noi siamo sullo stesso meridiano Capisci? Stesso meridiano Nella longitudinale capisci? L'asse Veneto-Lombardia cos'è? Esatto E questo ci fa pingare poco Si che la Lombardia in realtà è straspostata rispetto al Veneto Però No no Vabbè 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 Va bene Ah ma che stile Ma da qua si Ah ok E l'asse smonco tipo Stai già iniziando a capire qualcosa della mappa Daz Ammettilo Si 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 sto Si Senti forte Dai io mi prendo una caramella Così a cazzo Porca Se non ti fai buttare a terra si puoi tranquillamente prenderti la caramella Cosa cazzo sono queste fantasmi? Cos'è che ho preso? Cos'è che ho preso? Eh non so Grazie a delle armi Te lo dice esatto Rientri con le tue armi che stile Ah si se muori Eh andiamo a fare il primo sacrificio Lo sto già facendo Ah ok Ah lui fa tutto Usi le munizioni della scorta invece che quelle del caricatore Che cazzo significa? Vedi che non carichi mai l'arma Eh in pratica si Ma è una stranzata perchè usi in caricata di quelli di tipo da 90 e roba del genere Si che ti fa Si che ti fa Ok a destra hai capito Ma è una puttanata io comunque uso le armi Cioè comunque spreco Eh si C'è un'altra situazione Vabbè ma tanto c'è l'istocchio C'è l'istocchio Ma cosa il cazzo serve? Non lo so Neanch'io Però volevo prenderlo Perché fa figo se Prendere Daz è l'importante che Io so Io so Daz come attivare il civil protector E dopo lo attiviamo e vedrai che rimarai e mi direi Oh mio dio che figata che cosa è questa? Cos'è che è quella roba? Il civil protector è tipo un robot no? Non voglio credere E' tipo un robot che ti uccide gli zombie e ti rianima di seguo e fa tutte le cose E' una figata Vabbè che cazzo cerchiamo a fare? Attiviamo il robot E lasciamo che giochi lui al posto nostro Esattamente E ci facciamo 8000 E' un po' come MySky che puoi registrare Lui giochiamo e andiamo a cagare Esattamente Vedo che lei ha già compreso A pieno le funzionalità di questo Con i 3 fusibili si attiva il civil protector Salve io sono andato a comprare il CUDA perchè se noi eravamo nella merda Io invece ho preso un fucile a pompa E schiudo le uova Escono gli zombie Non muore lui Non uscire le uova Non esplodere le uova Certo che stiamo giocando ancora con gente scarsa Lasciatene uno va Ragazzi dobbiamo attivare i segreti I segreti facciamo gli easter egg I segreti facciamo gli easter egg Si si amane Oh grandissimo Io lo carico Madonna io grazie Lasciane uno Debe Lasciane uno E' uno non lo so quale è uno E' questo Ma cazzo lasciatene uno Ma si ce n'è uno la in fondo L'avevo lasciato prima io Andiamo a Jugganog ragazzi Andiamo a Jugganog Ok Dazzo non uccid No Dazzo non uccid Ma si gli ho sparato un colpo tanto non muore Tanto non muore Aia Vai non usate le granate Ma guarda Debe che ping a 60 Che storia Madonna ragazzi Che storia Adesso mi faccio anche internet play Così vi abbasso il ping a 40 La madonna Me l'hanno detto anche a me Poi ho detto no vaffanculo basta che non pingo io Che giorno No beh ma internet play Ti abbassa un po' il ping Debe Ma ma dai cosa vuoi che abbassi Di 20 millisecondi almeno Si perchè non fanno i controlli sui pacchetti Aprite dai Ah Ma non fare i controlli sui pacchetti è una cosa buona Eh Si e no Dipende quanto stabile è la linea Ma questa scatola sicuramente si apre Guarda i segni di origine Guarda Qua i segni di origine Oh shit è vero Guarda qua quelli tre segni di origine Attento Bravo Ma no ce n'era un altro io lo sapevo in realtà Ah si si lo sa No si aprono così Come si aprono? Devi avere il fumigator I che? I fumigator E che cos'è? Devi girare la tua copia del fumigator Ma dov'è? Eh non lo so Aspetta io entro in Io entro nella maledizione e vi apro la casa Eh grazie grazie Guardatemi Guardatemi ragazzi sono in maledizione Sono in maledizione Guarda mi rampico Oh sei come te dal vivo insomma Cosa? Uè Yuri che cazzo fai? Che cazzo? Che cazzo? Ho fatto la casa Ma va? Salve guarda qua Oddio che sbarrata Oh figata sta canzoncina che parte comunque Madonna Eccomi qua Il giocatore forte è il tornato umano Stai crashando Franci si Madonna Fran 999 E viva la condizione siciliana No adesso arrivano Adesso arrivano gli schifi Si? Adesso arrivano gli schifi che volano vero? Oh si 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 Io ho il cecchino e li ucciderò con il Porco zio Non ho fa culo uso il fucile a pompa Il fucile a pompa li butta giù bene eh Penso a te Non avrei mai detto eh Vabbè non è scontato eh Ma come no? Magari fa nitmarker che ne sa No ma anche col cecchino io l'altra volta Da questo gioco ottimizzato bene me lo sarei aspettato eh No lascia stare che ha ottimizzato benissimo sto gioco No calma ha avuto piccoli problemi eh Vabbè i server ma quelli ci stanno Sai quanta utenza Ma che cosa? Che se non aggiori i driver della scheda video Ci sono di quei problemi tattici Ah salve ho preso l'emmo Eh no vabbè ma quello con tutti i giochi più o meno Non è vero Non è vero A me è ancora lag in certi punti eh No ma è mai Ma è mai Io zero lag io Io zero lag tutto al massimo a posto Allora la fanculo non chiudo tutto al massimo ma ogni tanto entro in certe zone del gioco che Vum lag Palle Ma si può scivolare Salve Ah guarda guarda ho imparato a fare la scivolata doppia guarda Cosa? Ah Cosa? Ah ho già capito come si fa No cazzo Ho già capito come si fa No quasi Si si Ah che figata Come quelle E secondo me tipo puoi andare avanti all'infinito Si sei bravo Dazzo non lo so ma secondo me Secondo me potresti far di quelle trovate tipo Allora Sei tu di Oak Ma un colpo no Vai avanti tutto il giorno Panne Vai tiratelo su di copro Guardati rialibili ho girando fra Oh 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 oho Dazzo via da qua Dazzo spostati spostati Mi stavo spostando Dio B�essimo mi hai Mi hai strabloccato la Cosa? T sei tu che mi sei tu che mi sta investors' Cioè Tranquilli ci sono io vivo Avete una buona garanzia no? Siamo spacciati Attento Tranquillo tranquillo Faccio un altro giro Debe ti tiro su te perché Ah no tu sei arancione Che cazzo vuol dire se sei arancione? Vuol dire che sei più morto No 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 sei più morto dazzo di tre Eh si sono io più morto No 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 Debe è arancione Boh ti tiro su dazzo Poi continua il giro con me E tiriamo su fra e Debe Ok guarda che rosso fa Ok fatta fatta Bravo 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 Madonna Madonna Mi ha visto male Io ve lo dico Corri Corri Merda No 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 Tutti e due Morti uno dopo l'altro Coglioni Eh oh ascolta Non è che ci poteva fare di più qui eh No ma che tu rientrani me Poi correvamo a salvare Daz Lei non è Bene Ecco salve siamo tornati Ah beh ma è vero Tu potevi anche A spanne cercherai il jugger Cazzo potevi anche non tirarmi su Tanto rientravo con le stesse armi Ah giusto Porco 10 hai tirato su l'unico inutile Sorry Il jug scusate era di qua il jug vero Perché se Il jug era qua fra l'avevi visto tu No non era qua Rossissimo da seri con me è vero Ragazzi sono morto Morto Chiaro Bisogna aprire di qua Io ho detto Io ho detto Seguo zombie perché si Sono arrivati da tutte le parti Ok ragazzi siamo nella merda Vedi vedi però loro non ci provano neanche a rianimarci Cioè guarda te Cioè noi a farci il culo per tentare di rianimarli no E loro sono andati via dalla speed cola Tranquilli ho preso una caramella Cioè capisci sono andati via Dai che c'è insta kill Loro sono andati via Ci hanno abbandonati Stai zitto Guarda mi faccia mentre ti parlo per dio Ci hanno abbandonati Aiutatemi Aiutatemi i coglioni Che skill Eravamo Eravamo praticamente morti Eravamo morti Io vi ho visti già morente Io vedevo Vedevo sulla tua testa il cerchio che finiva Eri a un filo Il jug Andiamo da jug Andiamo da jug Aiuta io ve lo dico In questo gioco Sì sì il jug È una bibita Che bisogna prendere Ce l'ho qua anche io in casa Adesso lo apro e lo mangio Lo bevo No io ho la speed cola Lui deve anche il frigo però cazzo Adesso devi fare le lattine no E poi le metti dentro nel frigo Perché le bottiglie mi sa che non ci stanno Fra Fra Oh bravo Vedo vibrare la visuale Ecco Hai già capito Ok No dai Daz apri tu la prossima Apri tu Sì la apro io la apro io la apro io Io intanto vado in maledizione vai apri Dove vado qua? La sua la sua Quella aspetta dove cazzo sei? Quella quella Ho già aperto tutto là sopra Ho già aperto tutto Ragazzi il jug Ah l'hai già attivata la corrente Io ho già fatto tutto anche lì Ho già fatto tutto Ma se era chiusa Ma se la corrente era Ma se la porta era chiusa Come cazzo hai attivato la corrente? Ok salve io il jug Ah Hai fatto il giro dalle scale Dall'altra Ragazzi ho Eh ok colpa mia Abbiamo sprecato un po' di punti No porco Ho preso il jug E sono morto Orca puttana Debe sto arrivando tranquillo Io non ti consiglio di andare da Debe No 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 Non andare da Debe Non andare da Debe Ma sei sopra o sotto Debe? Sopra Sopra Ok io sono sopra Non c'è nessuno qui Sì 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 Però veloce e cretino Stavo bevendo Oh Te l'avevo detto Oh Debe ho preferito Prima prendere il jug Prima di animarti Guarda come non mi seguo Non mi seguo Non mi seguo Non mi seguo Non seguo voi Seguo voi Debe arrivo Debe arrivo Debe arrivo Ci sono Ci sono Ci sono Vabbè c'ero io anche Ma ragazza fra Che cazzo fai? Porca Io non me ne vado da qua Perché voglio fare la cassa Che cassa? Ancora la faccio io Dov'è la cassa? Orca Ciao Daz Sparagli Ho la cassa Ma che fai da cecchino a cecchino Ma vado da Fa ancora Dai fra portatelo via cazzo No Vai da loro Bravo ragazzi Ma quello che mostro sarebbe Cazzo ma c'è la cassa schifosa Cominciano ad arrivare gli zombie eh Io ti consiglio di andartene da lì Sì sì Consiglio Io me ne andrei anche da lì Daz però eh Via via scendi 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 No Mi han bloccato Eh io ho la pistola Daz giro un po' e sali Giro un po' e sali Giro un po' e sali Io ho il coso che mi segue Sì sì Giro un po' e sali Giro un po' e sali Dai sali 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 Sì 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 Sto arrivando Sto arrivando Sto arrivando Sto arrivando Sto arrivando Sto arrivando Ciao Madonna Salve a zombie Lui ho ucciso Yes Fatemi farei una cassa Per l'amore del foglio Ho sentito un rumore bruttissimo Lui sono ucciso Sì anche io Ma proprio brutto Zombie non ho il jack E fammi fare kill per dio Che cazzo è sta roba Non lo so Ma no Ma è un lanciarazzi Ma che cazzo Il lanciarazzi Fan sempre schifo Sì zombie Dopo la rega Nel lanciarazzi Dell'armature Che cazzo Non è Non è vero è una palese bugia